State ascoltando Slow Italian Fast Learning. Per trovare il testo a fronte italiano-inglese, visitate www.sbs.com.au barra Slow Italian. Slow Italian Fast Learning. L'epidemia di Covid-19 ha costretto molte destinazioni turistiche in tutto il mondo a chiudere. Come altre attrazioni, un museo al Bletchley Park in Inghilterra, la famosa sede dei codebreaker o decifratori della Seconda Guerra Mondiale, è stato costretto a chiudere i battenti a marzo. Ma dopo la riapertura a luglio, è apparso subito chiaro che la storica attrazione stava registrando un flusso di visitatori significativamente ridotto. L'amministratore delegato Ian Stenden afferma che, prima della pandemia, il museo aveva di solito centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. Facebook sostiene che la sua donazione mira ad aiutare il museo a salvare parte del personale dal licenziamento e preservare le esperienze dei suoi visitatori. Ma perché Facebook? Lo spiega Stenden. Il vicepresidente di Facebook per il Nord Europa, Steve Hatch, afferma che il lavoro del social network sulle nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, non sarebbe stato possibile senza i risultati dello scienziato informatico Alan Turing e del team di Bletchley Park. La casa di campagna di epoca vittoriana era la sede di una vasta rete di decifratori di codici della Seconda Guerra Mondiale che contribuirono a decifrare le comunicazioni della Germania nazista e, in questo modo, alla vittoria degli alleati. Dopo la guerra, la tenuta è stata trasformata in un'attrazione e un museo storico e ha anche gestito programmi di apprendimento della programmazione. Lo storico della ricerca David Kenyon afferma che la storia di Bletchley diventa più rilevante ogni anno che passa. come andiamo al supermercato, come facciamo il nostro bancaire, come avremo un taxi. E quindi la storia di Bletchley è più importante in questo senso e più relevante e ha più e più cose da insegnarci come il tempo si avrà.